Continua per 112 km Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 per andare di nuovo a fare il traforo, andare a Courmayère, ritirare il pettorale e tornare di qua. Quindi nel frattempo prendo un po' l'aspettato per mangiarmi due panini sempre in modalità barbone. Bello? Chiaro? Quindi vediamo di fare un panino con tanto pane e poco salume. Niente, alla fine è peggio del previsto, cioè è una peggiore delle ipotesi, quindi io per forza si vede che avevo cliccato così perché pensavo di arrivare domenica, non mi ricordo al momento della spunta. Ho spuntato a Courmayère, quindi domani devo tornare a Courmayère a prendere il mio pettorale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo sappiamo ormai. E mi metto il corto perché dopo lì tutta la salita di 2000 metri la fai di giorno che... Esatto, quindi la fai nel ciocco. Sto fermo lì minimo mezz'ora, perché lì sto fermo mezz'ora, mi devo cambiare, devo fare. A sinistra per rimanere su via delle Forces. Poi svolta a sinistra per rimanere su via delle Forces. Siamo io e nonna Belarda, la cartucciera. Meravigliosa. Probabilmente lei la finisce o no? Grazie a tutti. 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 Sì, no, no. Sì, no, no. Sì, no, no. Aller, 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 no, no. It's okay, it's okay. Aller, Omar. Super, tu peux, Yann. Sì, no, no. Aller, no. Sì, no. Sì, no, no, no. Sì, no, no. Sì, no, no. Sì, no. Sì, no. Sono italiano. ottimo l'anno scorso quando sono arrivato qui ero praticamente in semi ipotermio bagattato marcio non riuscivo a muovere le mani lì c'era eric e adesso non c'è quindi spero di trovarlo dopo sono arrivato alla twill quasi adesso vado a prendere il piccolo san bernardo ecco la twill storo Sì ma io sono qua in giro da dieci giorni in francia ho passato di qui ho fatto una variazione sui percorsi di cento chilometri eccolo eccolo grande come stai si è andato un po' forte scendere per i miei gusti anche per i gusti delle mie ginocchia stavo aumentando un po' perché non si arriva mai è lunga questa discesa è qui lì puoi fermarti un po' non è Borg St Maurizio questo non è 50 è ancora 3 chilometri adesso tagli la strada riuscite a venire la mangia i baracchini non prender freddo stai tranquillo dai basta che non mi freddo no ma è un freddo a madonna su quanti ho freddo a porsi ho trovato che sarà a 5 minuti sono a 12 gradi adesso un vento porsi un po' stavanti con la che urla è uguale la fotocopia la fotocopia non è che urla le donne unavano tutti è più mistico di noi è bello le notti ecco occhio all'acqua fredda non esagerare vado in là si si vai vai proviamo a arrivarsi no proviamo a arrivarsi perché te hai 3 chilometri e noi dobbiamo volare vai piano vai con calma tanto lì ti fermi un po' ti devi cambiare tutto giusto dai ci vediamo lì dai bravo 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 era maglia e maniche lunghe oh ne erano cinquanta ne si contò? ne erano cinquanta vieni, vieni da ormai 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 adesso l'hai lì tu mi ricordo ci andiamo lì in mezzo ci andiamo là e quella roba lì ma non lì, è oltre no no, questo è blu, questo bene, va simile vieni da ormai vieni da ormai vieni da ormai vieni da opla i siam into vieni da ormai io vieni da ormai esatto estframes lalo C'è il caldo che c'è qua dentro. Gli accompagnatori arrivano di qua, c'è un caldo porco, trovo un buco nel sedere. Fiero rimane fuori, non lo fanno entrare. Caldo porco. C'era anche mezz'ora. Ma DJ vuoi? Guardiamo, 20 per me sono stata a San Bernardo. Sono qua un paio di più di asciutti. Metti dentro. Ma di quanti sono? 20 per cento. E poi hai incivito. Fatti questi due mila venti. Ho già fatto fatica. Però cominci già ad aver fatto 50. Ma infatti ti abbiamo dato un range. Sette ore. Sette ore. Allora hai 17 chilometri. E le storie lì. Quindi io con queste borrazzi devo far tutto. Sì. Io vado veramente dalla vecchia. Vai dalla vecchia. Io li prendo. Sì. Poi me li dai. Ti devo 5 euro. Ti devi sempre. Io li prendi dalla vecchia. Però la manda a fare in culo lo stesso. C'è da mangiare. Sto a mangiare qua. Non so il parola. Però c'è un bravo. Ragazzi scudo. Francesco io parto però. Noi che faccia qua. Ci sto dando il meno. Mi servite un po'. No. No. Perché con me. Ma va forte. Dormo sicuro. Vai a mano eh. Ah voi dovete uscire lì. Noi siamo in classi. Ci vediamo lì. Te non ci vediamo più. No non ci vediamo più ragazzi. Buona gara. Mi raccomando. Io intanto sentro Eric. Non ho bisogno di te. E questo lui fa il piano mio. Il tempo c'è. Mianissimo. Storno. Solo quello. Le gambe. Lo stanchezza da bamboccio. Ti vengono. Ti vengono. Ti vengono. Tutti i passi. Tutti i ritorni. Basta che è lo stomaco posto. Il resto fai due giro. Due giro. Oh Mara. Io. Di passi. Vediamo. Ti vengono. Perfetto. Molto. Li ho bisognito. Adorati. Di queste. Diopera. Chi venono. Grazie a tutti. 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 Vai avanti. Vai avanti. Vai avanti. Grazie a tutti. 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 non c'è niente con le altre gare ma neanche con le altre, non c'è niente questa roba dai 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 adesso pensa vieni qua un po' più in qua che non c'è niente demolito non mangio l'ho sboccatto 50 volte non ne hai 100 o 110 ho capito ma da qui arrivare domani ma il mitè fè cuor ha fè mille mezzi di livello ne abbiamo ancora quasi 4000 non ha senso beh c'è uno la con una gamba rovescia beh c'è una delle vorelle c'è due figli qui il gioco no adesso guardiamo dai stai tranquillo stai nervoso che fa schifo che cazzo vado adesso io fuori altre 18 ore 20 grazie 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 come nuovo ma intanto lo stomaco è a posto ci vediamo lì ci vediamo tra un po' ciao 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 ecco qui per dare un esempio c'è un'altra salma come eravamo messi noi prima ti metti lì e muori male per cinque minuti noi facciamo cinque minuti o mi ha fatto quindici in un ristoro e 30 minuti morti proprio spiaggati alla base vita però parecchi cinque minuti così come salme buongiorno sono a raccontami adesso vado a ritroso grazie 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 sapevo che vi beccavo, avete preso come delle rose? come state ragazzi? bene, minocchia, un po' così per questa difesa notate com'è andata, un po' freddo ci sono fermati tante volte a dormire in terra eccoci no ma adesso arriva proprio nella larga si, proprio uno slargo da 5 metri ciao 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 bravo il l'a passato qui dicono buon courage ciao 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 eric io sono l'assistente io rilasciamo le robe familiari vado lì un tanto ci vediamo lì come è giù hai mo riso col brodo ma ho messo poco riso ti mangio sto sbobbo guarda dio come piero che ci toccia il pane nel brodo ti metti a posto sempre ok ok buongiorno buongiorno qui buongiorno buongiorno Ciao Eric, ci vediamo dopo, nei chilometri sceglie da noi. Forza, a dopo. Grazie mille. Ciao. Buongiorno. Ultima salita, dobbiamo scavallare di lì. Il muro del pianto, ovviamente al sole. Che sciammonia è qua di dietro. Dobbiamo lasciarsi nelle scarpe. Non ti faccio vedere quanto grande è. Oh! C'è un macerie. Sono minuti da laggiù. Ultima salita, 700 metri in botta. Al sole, a mezzogiorno e mezza. Uno, due, il terzo, due, i tre cotti. Hai problemi tu? Le pigini, no? Palla! Nulla di più facile dopo 130 km. E 9000 di dislivello sulle gambe. Credo che sia l'ultimo ristoro. Ne sono quasi sicuro. Intanto... Zero dislivello positivo. Buona! 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 Grande! Dai Omar, eh! Forza! Cos'è quella salita là? Dai, dai! Non c'è. Qui. Vi salita. Ego qua! Voi! Buona salita! Un'altra! Grazie. Dai ragazzi, dai Fazio. Dai, grande. Vai a la mano. Grande, grande. Dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Grazie a tutti Grazie a tutti